Sex work is work, sex work is work, sex work is work Oggi abbiamo questa manifestazione perché sono vent'anni che il comitato ha usato l'ombrello grazie all'artista, all'arte e grazie a Tadei e l'ombrello rosso è diventato il simbolo di rivendicazione per i diritti di chi si prostituisce per i diritti del sex worker, i diritti della donna, del transgender, del migrante sex worker Sex work is work, sex work is work, sex work is work Oggi questa giornata per noi è molto importante perché celebramo la nostra vita, mostriamo a tutti che ci siamo e quindi sono molto molto contenta di esserci qua La prostituzione non è ideato, è solo una stupida legge dello Stato Oggi celebra il ventesimo anniversario della loro performance, della celebre performance delle ombrelli rossi che realizzarono vent'anni fa alla Biennale di Venezia, la mostra della Biennale Internazionale della Biennale in cui per la prima volta scesero in piazza San Marco armati di ombrelli rossi E' solo una stupida legge dello Stato La prostituzione non è ideato E' solo una stupida legge dello Stato Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.